Costabile Spinelli critico anche contro l'amministrazione comunale agropolesi. In una nota su Facebook l'ex sindaco di Castellabate entra nel merito e soprattutto sui ritardi che l'amministrazione ha attivato per affrontare la pandemia. Capisco le difficoltà e solidarizzo con chi è chiamato a prendere decisioni in momenti difficili come questo, quindi ho preferito finora non entrare sull'argomento scuola. Evitando ogni polemica dico fin da subito che sono tra quelli favorevoli alla didattica in presenza e per questo motivo qualche considerazione soprattutto di fronte a una popolazione scolastica importante come quella di Agropoli va fatta. Già dalla scorsa estate tutti eravamo a conoscenza della quarta ondata relativa al covid-19 che ci sarebbe piombata addosso in autunno. L'altro giorno leggevo della lodevole iniziativa di alcuni genitori appoggiati da imprenditori locali e sponsor che in maniera previdente hanno deciso di acquistare dei sanificatori d'aria per installarli nelle scuole dell'IC Agropoli San Marco, il secondo circolo in collaborazione con l'istituzione scolastica. Evidentemente l'iniziativa è stata molto apprezzata al punto che adesso, meglio tardi che mai, anche il comune, eretto da Adamo Coppola, tenta di correre ai ripari rassicurando su un contributo di acquisto di sanificatori per le scuole del primo e secondo circolo ma solo dopo l'approvazione del prossimo bilancio che se tutto va bene verrà deliberato a marzo 2022 quando forse tali dispositivi non saranno più importanti come oggi, conclude Costabile Spinelli.